È il dialogo tra la signora delle comete, Amalia Ercoli Finzi e Greta Galli, l'influencer che racconta la tecnologia ai giovani sui social in modo semplice, il momento che più ci è rimasto nel cuore dei Siemens Tech Talk 2024. Un dialogo fra generazioni, un passaggio di testimone con filo conduttore e l'innovazione e sullo sfondo la tecnologia targata Siemens per vincere le sfide di domani, dal cambiamento climatico alla decarbonizzazione, con l'ausilio di metaverse, digital twin, intelligenza artificiale per la gestione dei dati, software defined automation, in una parola l'industrial AIP, che rende l'innovazione a portata di mano. Fra robot che somigliano ad animali oppure a uomini, il limite diventa solo la fantasia e un ecosistema di partner capace di collaborare con le competenze e le risorse per supportarla.